In prefettura potenza e riunione del comitato, ordine e sicurezza all'ordine del giorno, le misure di organizzazione ma anche le condizioni del manto stradale lungo l'itinerario Lucano. Per noi c'era Eugenio Montesano. Ci sono dei tratti dove le verifiche, i sopralluoghi fatti dagli organi di polizia stradale hanno evidenziato delle condizioni stradali non, diciamo, al meglio sul piano dell'attraversamento. E quindi su questi tratti in particolare oggi verifichiamo con quegli amministratori che ci siano stati gli interventi di messa in sicurezza. Quali sono questi tratti? Lavoria in Lago Negro. 850 mila euro. A tanto ammonta la spesa di Regione Basilicata per la manutenzione e la messa in sicurezza del percorso della settima tappa del Giro d'Italia. Ma una settimana dal passaggio della Carovana Rosa restano alcuni problemi di viabilità. Li hanno riscontrati gli organi tecnici e della polizia stradale che hanno fatto i sopralluoghi sul tracciato. Il punto nel corso della riunione del Comitato Ordine e Sicurezza in Prefettura a Potenza con i vertici delle forze dell'ordine provinciali e i sindaci dei 13 paesi attraverso cui sfilerà il gruppo. Previsto l'impiego di centinaia di uomini tra forze di polizia municipale, vigili del fuoco, operatori sanitari del 118 e volontari per garantire che la tappa lucana del Giro sia per tutti una giornata di festa. I sindaci dei comuni dagli organici più sguarniti hanno chiesto la collaborazione dei centri vicini. Al vaglio anche la chiusura di scuole uffici laddove si rendesse strettamente necessario. Intanto il governatore Bardi ribadisce di puntare al giro come vetrina e dice siamo al lavoro per rendere la Basilicata una meta fissa della storica corsa.